Si chiama a codice rosso la procedura attivata dalla polizia di Fano sotto la titolarità della procura della Repubblica di Pesaro per contrastare la violenza di genere e gli atti persecutori. In questo contesto la polizia fanese nell'ultimo periodo è arrivata a procedere con un arresto e due denunce nei confronti di tre uomini dimoranti a Fano. A finire in manette un fanese che si è separato dalla moglie dopo dieci anni di vita coniugale ma che ha continuato a minacciare picchiare la donna con lesioni anche gravi e con persecuzioni anche nei tentativi di fuga dalla città. Un altro fanese non ha accettato la separazione coniugale del figlio e non l'ha accettata al punto tale da arrivare a incendiare l'auto del nuovo compagno dell'ex consorte. Un rogo ha piccato dopo un'escalation di insulti e telefonate minatorie. In questo caso il tribunale ha applicato la denuncia con divieto d'avvicinamento ai due perseguitati. Un'altra denuncia con divieto d'avvicinamento è arrivata nei confronti di un fanese protagonista di minacce reiterate verso la figlia minorenne e verso la madre. Atti repressivi ma anche preventivi come quelli che hanno visto due ammonimenti del questore per diversi casi di stalking segnalati a Fano dallo stesso commissariato.